E per la prima volta su questo palco, ospite dei Martesana, l'unico, vero, inconfondibile, immarcescibile, fondatore dei Gufi, Paolo Rossi! Faccio così non per inchinarmi ma per mettere il piatto a livello. Sì, avanza facendo finta di indietreggiare. Ora, a me i carabinieri una volta l'han chiesto, ci segua precedendoci. Succede? È una battuta, eh? Se ci fossero dei carabinieri in sala, gliela spiego dopo. Ora, aspetta che metto le giù. Non applaudite sempre, lo dico perché se no. Non applaudite sempre perché andiamo a fare... Chi dà a me sul microfono così? Non lo so. Ecco, ora, ascoltami, se puoi introdurre il brano, che è un brano che ha un suo valore popolare e culturale. Sì, perché Paolo vuole dimostrarci che la canzone popolare che noi abbiamo fatto, non ci sono solo Bele Gigo Ging, non ci sono solo Ravonè, Remoulas, Barbavietro e Spinaz, ma ci sono anche le canzoni degli anarchici carraresi, delle mondine vercellesi. Se otto ore vi sembrano poche, provate voi a lavorare. Shurpa Dunda, Liberi Braghi Bianchi, gli scariolanti, se a noi gli scariolanti che andiamo a lavorare le mattine, la mattina, la mattina noi andiamo. Il padrone che siamo, se è otto ore, mi sembra un po' che provate voi. La bombetta, non è la bombetta. Mi avevano detto che era guarito. che parlava con senso. La canzone popolare, come dice Ivano Fossati. Sì. Anche te, cazzo. Eh, va bene, ho citato Fossati. Ha avuto una ricca dovuta. Ho avuto un torbio. Ho avuto un torbio. Sento... Sì, no, no. Mi sento tutto duro. Che era da tanto che non succedeva. Ok, allora, facciamo il pezzo. Allora, vieni. Questa canzone è una canzone popolare, milanese. Due sono le grandi canzioni popolari milanese. Due sono le grandi. Va a pensiero. Va a pensiero. E vada via i chap. E vada via i chap. Che va a pensiero, piaccia a bossi, di cui io non parlo perché non mi piace parlare di quelli che fanno il mio stesso mestiere. Ci sono molti reghi in sala, è inutile che ha proprio facciato il pinto. Eeeh, è un altro. Ora, invece... E invece vada via i chap, è un po' la stessa cosa. Vada via i chap. Però è un insulto, se tu ci pensi, surreale. Vada via i chap. Si presume che ci sia uno che deve prendere, andare in un luogo, lasciare in deposito, li riconsegnano. È un insulto surreale, cubista e anche un po' metafisico. Tu sei metafisico? Io sono nato metafisico. Ora procederemo col brano. Mi sono fatto male le ginocchia prima. Non mi spiego. Beh, niente, mi parti e leggi io con nonchalance. Grazie. Leggio lì. Allora, questo è... possiamo dire il titolo? Sì. Puli, puli, puli. Dove appunto, se infila in intel, non è volgare, ma è un'e metafora della vita. Sì. 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 Di quelli che perdono in borsa, stavolta non sono stato io, giuro. Di solito la ciullo dalla moto in corsa, domani mattina ho perso i fogli, se leve in su. Ciappe nel Nascat e se il fico in intel, puli, 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 buffa il tacchino. Qua, 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 fa l'occhetta. Sì, lì, 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 fa il piccino. E di noi che cosa sarà? Lo prese. Sì. Seguedde, la sua memoria, seguedde di, di quelli che vivono vicino a Roma, che devono ascoltare per forza Radio Vaticana. Domani mattina se leve in su, muovono le orecchie, ecco le onde e si accende la tv. Miracolo! Puoli, 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 guffa il tacchino. Qua, 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 fa l'occhetta. Cini, pini, 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 fanno il cino. E di noi che cosa sarà? Seguedde di, del bipolarismo, che è un gran, perfetto, bel meccanismo. Bisogna scegliere con molta attenzione, tra un bel testicolo e un gran... Puoli, 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 buffa il tacchino. Vai! Qua, 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 fa l'occhetta. Cini, pini, 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 fanno il piccino. E di noi che cosa sarà? E la percontigio? Se la piccina... Seguedde di, di quelli che vogliono la città sicura E comprano pistole, pistole, perché hanno sempre più paura. Allora mettiamo in centro un bel cannone E dopo mezzanotte spariamo tutto quello che si muove. Puoli, 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 puffa il pulotto. Qua, 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 qua il vetronotte. Tiriamoci un sacco di botte, la città più tranquilla sarà. Vai! Puoli, 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 puffa il tracchino. Qua, 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 fa l'occhetta. Cini, pini, 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 fanno il giro. E di noi che cosa sarà? Puoli, 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 puffa il tracchino. Siamo a qua, 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 fa l'occhetta. Puoli, 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 cuoc'è il tracchino. E di noi che cosa sarà? E di noi che cosa sarà? Già 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 Ma signor Albert Ma non è abbassato un soffitto? No Già Grazie.